Humanitas Medical Care e la diagnostica per immagini si avvale di tecnologie radiologiche all'avanguardia. In primis abbiamo la radiologia tradizionale che ha come obiettivo quello di valutare le strutture scheletriche. A seguire abbiamo l'esame ecografico che ci permette una valutazione di dettaglio delle strutture capsulo ligamentose e miotendini e peri articolari. Quindi al fine di valutare la presenza di eventuali calcificazioni o borsiti o versamenti articolari l'esame ecografico che è un esame innocuo e utilizza delle onde elastiche permette di valutare in una maniera ottimale tutte quelle strutture che radiograficamente non sono possibili vedere. Inoltre sempre in Humanitas Medical Care di Piazza di Angeli abbiamo un magnete permanente dedicato per le strutture muscoloscheletriche sia piccole articolazioni che grandi articolazioni. L'apparecchio è dotato di un set di bobine dedicate che ci permettono la valutazione di tutti i segmenti articolari ad esempio le piccole articolazioni come gomito e polso ma anche spalla, caviglia e ginocchio. Inoltre è possibile effettuare esami RM della colonna cervicale e della colonna lombosacrale. La risonanza magnetica utilizza un campo magnetico statico e delle onde radio che sono innocue quindi non danno particolari problemi ai tessuti che indaghiamo per cui è possibile ripeterla nel momento in cui è necessario valutare le strutture scheletriche e miotendine. L'esame dura circa 20 minuti, viene posizionato in posizione clinostatica o in posizione laterale e è possibile utilizzare dei supporti morbidi in modo da ottimizzare il comfort del paziente.